a tutti ragazzi da sempre io e oggi siamo su super mario rush un gioco plataforma di super mario e credo che funziona con il mouse bene cosa è fighissima già l'animazione ok prendiamo subito una stella ok guarda come salta bene lui dobbiamo cercare di fare più distanza possibile iniziamo alla grande ok funziona tipo temple run dobbiamo fare più distanza possibile c'è qualcosa che non quadra lo so io che sono ritardata premere c'è qualcosa che non quadra si è baggato il gioco si è baggato il gioco non ci credo ok ok ce l'abbiamo fatta cosa stavo facendo mi stavo salvando in una maniera assurda bene devo stare attento quando devo saltare ok perché si bug ti prego non baggarti ok ok non si è baggato dai e madonna che salto della madonna che ha fatto da madonna come mi sono salvato il razzetto grande mario proprio lui prende il razzetto oddio ci sono le seghe ok non so se si può dire così ok ma il grande mario oddio madonna madonna dai dai meno male che ho preso quella corsa così c'ho tutti i soldi dalla parte mia almeno una cosa positiva stupido mario e non è facile giocare la mattina sti giochi dai dai ok il razzetto non ha preso il razzetto cretino di un mario chi odierò per il resto della vita come si può non prendere un razzo madonna riprendi riprendi lo grande oddio la donna mi sta piacendo un botto sto gioco non ho capito qual è lo scopo principale di sto gioco madonna madonna è figo veramente sto gioco non avete visto niente la musica pure bella io non so chi chiesto genio che ha fatto questo bellissimo gioco c'è serio e figo oppure come grafica non me l'aspetto da un gioco flash una grafica del genere mario vai mario vai mario un corno ma dritto lì dovevi andare c'ho l'ansia quando devo saltare salvataggio proprio bello prendi il razzo grande se tutti i nuovi mario ce la puoi fare attenta alla sega non pensate a male a buttando c'è lei comunque madonna quando l'odio quel pezzo ce la dobbiamo fare non me ne frega che ma non si sa se sono un livello che sono due non si capisce dove è andato mario mario non si sa dove è andato tipo uscita dallo scherbo e non lo faccio più con la cosa ok non facciamo con la cretinata di prima madonna stavo per andare nella fiamma la fiamma c'è una fiamma dietro corri c'è il nemesis corri scappa c'è il nemesis bravo bravo grande adesso arriva la parte più brutta ce la devo fare a tutti i costi dai dai che ce la stiamo per fare sempre se non fa una cretinata signor mario dai dai prendi il raggio no non ha preso il raggio non ha preso il raggio stupido sono stupido non mi sono salvato mai così bene come adesso vai vai prendi del raggio questa volta grande grande sia un mito mario adesso attenzione bella 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 adesso arriva la parte più brutta no no madonna è troppo ansioso quel pezzo prendi il raggio ma non prendi il raggio ma che problemi c'ha adesso attenzione stiamo arrivando alla parte più brutta vai non salta non salta madonna di fare un salto gigante dio boia ti prego prendilo bravo adesso madonna non ci credo ce la sto facendo non ci credo con che bucio di culo no il raggio non ha preso il raggio non hai preso il raggio non hai preso il raggio madonna come lo ammazzo ti ammazzo mario ti ammazzo non me l'aspettavo da te ok sono super agitato ok adesso super agitato ma perché perché ok stiamo arrivando al momento perché è andato a finire lì sopra madonna ok adesso attenzione grande 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 adesso attenzione adesso attenzione il raggio il raggio il raggio devi prenderlo grande ha preso il raggio sì 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 ce la posso fare ce la posso fare ma la come sono morto come noi ci riprovo l'ultima volta poi dopo basta ok attenzione ma hai qualche problema l'ultimo proprio l'ultimo lo giuro questo è l'ultimo ce la devo fare non mi interessa perché perché se bug attenzione 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 dio porco dio ok ok vai vai adesso super attenti dai il raggio devi prendere il raggio il raggio grande grande non ci sto credendo ce la sto per fare ma basta basta credo non ce la faccio più mamma mia è complicato come gioco e sto vedendo che la mappa è infinita quindi non ci sarà mai una fine almeno si spera perché se c'è una fine mi trigger o no giuro è complicata questa mappa e poi se non sbaglio si ripete va bene raga concludo qua questo video un po scleroso su super mario rush se vi è piaciuto lasciare un like di iscrivervi al canale mi trovi bacia pagina facebook trovi in descrizione altre social e niente non ci vedo un prossimo video bella a tutti raga e spero che il prossimo video non sia di sclero ciao 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 ciao